ritorniamo ai rancori fra torre e pordenone giovanino come vi ho detto il mio primo benefattore il nuovo feudatario di torre al suo arrivo trova appunto questa rivalità fra le due popolazioni vi ricordo il discorso del fonte battesimale eccetera no e il giovanino che si ricorda appunto delle lotte che la sua famiglia aveva sostenuto contro i duchi d'austria ai quali si ribellava di un giuramento fatto nel 1365 giuramento di fedeltà che non voleva mantenere pensa di utilizzare tali rancori per trarne profitto alimentando la rivalità con lontano proposito di potersi impossessare della vicina importante terra cioè pordenone quattro anni di signoria hanno permesso al giovanino di irritare e offendere la comunità pordenonese e questa a un certo punto stanca porta le sue lagnanze al duca inviandogli una lunga lettera d'accusa i 15 ambasciatori narrarono al duca d'austria in posizione rappresagliere del castellano contro rustici e altri dipendenti denunciando per giunta la scoperta di un complotto per l'uccisione del capitano l'attuale sindaco di pordenone e la presa della città stessa in tale situazione il capitano austriaco il sindaco di pordenone nicola mordax non restava con le mani in mano e infatti era il 12 aprile 1402 se ricordo bene un mercoledì e nicola mordax aveva pensato alla sua tremenda vendetta promettendo l'immunità a un fabbro omicida se questi lo avesse aiutato ad entrare nascostamente nel castello di torre la meravigliosa valletta del noncello non era ancora illuminata dai primi albori dell'alba che una truppa di uomini armati attendeva appostata intorno al nero e silenzioso fabbricato pensate perfino la luna per l'orrore che stava per succedere si nascose dietro ne dense nuvole nere era impossibile entrare nel castello perché questo era protetto da un largo fossato gonfio delle acque del fiume di noncello appena giorno il punto elevatoio si abbassò e una donna uscì per andare a tingere l'acqua il fabbro assassino che guidava la truppa lasciò che la donna si allontanasse e poi lanciò il segnale una moltitudine di uomini ruppero nel castello guidati dal nostro capitano mordax questi ordinò di fare in fretta prima che il conte si svegliasse e potesse organizzare la rifesa e dispose l'immediato saccheggio e personalmente si attivò per incendiare la fortezza quando giovanino si destò dai strani rumori e si impresentò sul puziolo che era una balaustra sopra la torre per vedere cosa stava succedendo tutto il popolo pordenonese si affollava sullo spiazzo davanti ebro di vendetta e nel mezzo il capitano che contemplava l'opera distruttrice delle fiamme da lui stesso applicate giovanino aveva dieci figli fra maschi e femmine e la sua donna era vicina a partorire vedendosi senza scampo e saputo che gran parte della sua servitù era stata uccisa nell'oruzione si presentò al popolo furibondo per chiedere almeno la vita della moglie e dei figli ma il capitano mordax fu irremoribile e la folla unanime gridò morra morra allora il conte chiese perdono a dio dei suoi peccati baciò sulla fronte ognuno uno i suoi figli li benedisse col segno della croce e ordinò loro di tentare la fuga buttandosi nel fossato rimasto solo fu per domandare nuovamente perdono al popolo pordenonese quando il solaio invaso dal fuoco rovinò travolgendolo con la moglie dei dieci figli di giovannino solo tre si salvano federico che continuò la famiglia galeazzo e petruzza qualche tempo dopo il consiglio comunale di cividale deliberava di mandare per suo conto sei moratori per la riedificazione del castello riedificazione che ebbe non pochi problemi date le turbolenze politiche ecclesiali del momento e venne solo effettuato parecchi mesi dopo quando federico con tutta la sua famiglia vi entrò ad abitarci se pordenone non fu punita materialmente del reato d'incendio essa però fu scomunicata e solo nel 1406 il cardinale di aquileia facoltizzò il vescovo di concordia sagittaria ad assolvere il popolo pordenonese dopo pubblica penitenza ecco signori a cosa porta l'invidia il campanilismo l'arroganza ma soprattutto il covare per decenni un raccore irrazionale iniziamoci un racconto iniziamoci un racconto iniziamoci un racconto iniziamoci un racconto iniziamoci un racconto